Stavo girando in fondo Oh mio dio questa mi ha preso subito il colgo Ha preso l'arma? Si Vabbè ma sono due Guarda sbagliate il piano Oh mio dio Io ho due armi belle e buone Oh io non ce n'ho neanche una Aspetta qua c'è il baule Pompà oro Oh mio dio Beh con paura Con paura Ma... Questa è una sopra comunque Ma dove cazzo? Dov'è questo alto? Ah li ho uccisi tutti e due Bravo matti youtube Voi questo tien Ma... No 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 vabbè c'è la io Sai che le smg mi sa che l'hanno patchata? No Tu fammi capire tutta la gente che vieni in questo posto viene qui? Ma secondo me no Ma dove sei go kart? La pista? No dico Se vieni in questo posto qui Vieni al graciacielo Ah c'è gente C'è gente C'è un mitretta blu è qua Se vuoi C'è gente a esta? Arrivo No Però giochiamo ai vicini Vieni porco Sì 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 un atterrato let's go la medaglietta mamma mia io ero stramorto mamma mia la medaglietta su medikit non lo faccio per 12 anche qui c'è un altro medikit fattolo fattolo mamma mia abbiamo preso tutti i nedi shot due o tre colpi i nedi shot io ho levato un sacco di vita questo medikit la porti tu? si vuole m4 blu ma a te perchè io non lo uso tanto non so non è ma lì c'è una mitraglietta verde non è male c'è la blu io lascio una dito blu come una mitraglietta? si c'è già una blu hai lasciato indietro una mitraglietta blu si te l'ho detto porco zio te l'ho detto mi sto impazzendo c'è domani oh porco zio quindi non li hai risposto perchè non lo vuoi più vedere no vabbè perchè mi rompevo le parola oh oh mate guarda sto stanto mate no ha sbagliato oh cazzo vieni entra vieni entra vieni entra vieni entra si gira solo vieni entra vieni entra me la fai a guidare un po' strano vieni come è che si fa a driftare? con le r1 no ma ma il turbo il turbo più quanto tempo c'è tipo fai 5 secondi di drift e ti dai il turbo ti sblocca il turbo si sta rompendo che si sta rompendo oh madonna oh mio dio oh oh mio dio oh guardalo madonna che sicurezza signori oh c'è gente a sinistra c'è gente a sinistra qua sotto è una baglioni a strutoso troppo così hanno preso il portale no è sopra è in cielo si hanno preso il portale a nord si è andato via ok ho visto una stella cometa una cometa what the fuck Matteo però guarda oh 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 qualcuno dove l'ha preso il bagaglio? Matteo guarda se fosse uccito questo l'ha preso qua giù ma non c'è più ah perchè scompare? si scompare oh cazzo dov'è? chi è? what? oh ho capito ma fu molto ho arrivato un bel po' ho arrivato un bel po' ho arrivato un bel po' sono ritardato ma l'affanculo vero che lì vengo pure a spe ah ma era attenzione la risolva sono in due attento attento terra a te a te va che bravo beh io il pompa oro non lo prendo ce l'ha pure già io vai però l'auto ora l'auto ora servirebbe in teoria eh mica c'è un falò hai visto che è inutile il cazzo adesso il double pump? eh lo so un mitetta blu se la vuoi ehm ma te prendiamo una macchina ma te la macchina ci serve al volo perché sennò c'è un portale servibile ma non ne vedo ah ma ce la facciamo easy è attaccata dai no dove è attaccata? guarda attaccata dove le lasciano la macchina? no io prendo la macchina oh che buo io arrivo in macchina sei scendo da 1 a 10 senti che casino la senti? ma ce l'ho dietro invece c'è 300 km c'è gente qui c'è gente qui scende per l'affare dove stanno dove dove dimmi dove in questa casa qui se mi distrutto scende per col oh vabbè mi impazzisco c'è la lancia granate eh comincia a buttarne un po' questi si stanno fightando si stanno rushando sono ancora 2v2 ah non fa niente assiste allo spettacolo no però dai qualche granatina posso lanciarli a terra a terra eliminato 2 hanno eliminato fra sono rimasti loro 2 e sono hitati si pusciamo a terra a uno gli ho fatto danno altro danno 14 di headshot ci so vabbè no i want shot credo che scandalo 7 kill l'importante è che l'abbiamo fatto e lancia granate ha fatto sei scandaloso hai fatto una kill più approfittata dell'altro questo è quasi proprio da cani eh ok allora prendiamo questo tanto così andiamo alla stessa qua c'è il c4 c'è il c4 carro darato me lo prendo assolutamente cecchino qua c'è un cecchino blu due cecchini blu ehm e mi devo andare la metaglietta? ma niente ho li porti tu perché c'è un lanciarazzi qua lanciarazzi che prendi? l'ho lasciato il lancio a granate eh eh beh prendo io dai ce la possiamo fare? si siamo due contro due non c'è bisogno di siamo due contro due due contro uno due contro uno ok contro B beats Gamer questo è un bel gameplay per te eh si vediamo di fare la fine dell'altra volta dai vai vai frolla dov'è? dov'è questo? no fra però lo facciamo facciamo qualcosa ho anche le jump pad dai dov'è questo? fra so qui ci sono delle costruzioni sarà qua ma scusa aspettiamole in safe e facciamo una base scusa qui eh allora fa una sky base non è anche troppo alta cioè non vorrei rimanerci alla tua parte da qua e a parte all'altra parte eh esatto facciamola a due scale speri che mi faccia uno scudino che ne ho bisogno io ok oh hai sparato tu? no no ok vedi è da dove avevo detto io sud ovest sud ovest? dietro l'albero? non lo so dietro solo lo sparo si dietro l'albero non è scarso dove 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 non lo viene? è scarso è scarso scherzavo ma lo prendo? eh dai non fare non fare cose ho levato 66 bianco ah allora niente niente questo è fatto eh aspetta vorrei fare qualcosa vorrei un trick eh? eh ma da questo io sono troppo alto lo provo a prenderlo nel pixel metto la jump metto la jump vieni vieni ce l'ho la jump questa qui che fa saltare ah quella là aspetta arrivo allora vai provo provo no però allora intrappoliamo? non lo vedo troppo sd aspetta aspetta non lo uccido non lo uccido deluxe mi sto provando a fare delle cose strane col check è qui sotto è qui sotto vai prova a fare qualche trick c'ho una c'ho una jump rimanente ah vieni safe vieni safe vieni safe aspetta aspetta no devo provo il trick ora scappa 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 fottitene ce l'hai davanti svegli stuicci di fra stuicci di fra stuicci di fra stuicci di fra ok vieni via costuicci di fra noo matta questo mi uccida Gli sparo? Eh però Mattei, 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 uccidilo Mattei, uccidilo, Mattei Mattei, non fatti uccidere Mattei, non facciamo un'altra volta, ti prego Ah, finalmente Poi c'è un'altra cagata così Che già l'altra volta Ho provato il no-scope col cecchino, ma nulla Che palle però Non gli è entrato un colpo di cecco adesso Niente, il no-scope non ci ho provato Ma sai io cosa gli stavo facendo? Cosa? Presente che quando salti sulla jump Se prima di entrare nella jump Miri, ti rimane in mira quando salta Provato pure io, però poi ho detto Vabbè, vado all'inizio Comunque, mira quando ragazzi lasciate un like Per questo gameplay Che è stato abbastanza carino Di questa nuova season Ci diamo